Musica Ecco qui gli ingredienti che ci occorrono per fare il nostro Kinder Cereali E' veramente velocissimo, andiamo a vedere che cosa ci serve Allora innanzitutto abbiamo bisogno di farlo soffiato O se non lo trovate potete usare il riso soffiato Cioccolato bianco 200 grammi e 200 grammi di cioccolato al latte Vado a sciogliere direttamente qui il cioccolato al latte Adesso andiamo a prendere la cioccolata che abbiamo sciolto Io ho foderato una ciotola bassa E andiamo a ciaversare metà cioccolato Adesso andiamo a sciogliere il cioccolato bianco Ecco qui il cioccolato bianco sciolto Adesso ci andiamo a versare dentro il parro E giriamo Adesso prendiamo il composto di cioccolato bianco E lo versiamo nel cioccolato al latte E andiamo a premere e compattare E adesso con il restante cioccolato andiamo a ricoprire Ecco qui l'abbiamo ricoperto Adesso mettiamo in frigorifero fino a quando non diventa solido Ecco qui il nostro Kinder Cereali solidificato Adesso andiamolo a tagliare Ecco qui il nostro Kinder Cereali Adesso andiamolo a provare insieme E' buonissimo Dovete veramente provarlo perché è uguale Pollicino in su di se questo video vi è piaciuto Condividete e al prossimo video Adesso andiamolo